buon venerdì e bentornati sul mio canale o se siete nuovi benvenuti sono elisa true crime questa è l'ultima l'ultima puntata della mia rubrica di aprile dedicata al paranormale so che molti di voi saranno felici perché questo è un argomento che non interessa a tutti ma lo sapevo già faccio due video a settimana proprio per questo motivo così se a qualcuno non piace quello del venerdì può guardare quello del lunedì ma invece so che a molti moltissimi di voi alla maggior parte di voi questa rubrica piace tantissimo quindi alcuni di voi saranno tristi alcuni di voi saranno super felici questo caso come al solito me l'avete consigliato voi e come al solito io non lo conoscevo quindi mettetevi comodi prendete uno snack la solita birretta quello che volete perché questo caso sarà secondo me è un po più spaventoso degli altri non lo so a me ha spaventato un po mentre lo preparavo quindi magari accendete anche una luce e cominciamo oggi parliamo di un caso spagnolo e mi scuso in anticipo se pronuncerò male tutti i nomi in spagnolo e per quelli di voi che mi dicono hai una pronuncia perfetta no non è vero ho una pronuncia perfetta solo in inglese perché è l'unica seconda lingua che parlo tutto il resto per me è la nebbia compreso lo spagnolo non dovrebbe essere complicato no ma per me lo è quindi abbiate pazienza come sempre oggi parliamo del caso vallecas vallecas perché non controllo prima ok adesso controllo il caso dell'esperiente vallecas che se che les va a perturbare vallecas vabbè oggi parliamo del caso vallecas facciamo finta che questa sia la pronuncia corretta ed è tra l'altro questo è il nome della zona di madrid in cui si è svolta questa storia questa è la storia di estefania guttierez lazaro 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 questo caso si svolge nel marzo del 1990 e stefania una ragazza di 16 anni che vive a madrid e quel giorno si trovava a scuola che era più un collegio gestito dalle suore comunque si trova nella biblioteca del suo collegio e decide insieme a delle sue compagne di giocare diciamo tra virgolette perché non è assolutamente un gioco decidono di giocare con la tavola ouija che per chi non lo sapesse è quella tavola che spesso è in cartone oppure in legno con su scritte delle lettere o anche delle parole che si usa per comunicare con i morti con gli spiriti attraverso un indicatore mobile che solitamente è fornito insieme alla tavola oppure vabbè io quando ero piccola ho fatto tantissime di queste cavolate se non mi è successo niente sono solo fortunata e facevo la tavola ouija con semplicemente vabbè un foglio di carta su cui scrivevo queste lettere queste parole e usavo un bicchiere per comunicare con gli spiriti non lo facevo da sola però ero molto piccola e molto stupida comunque su questo indicatore mobile appunto come vi ho detto si posiziona il dito indice di tutti i partecipanti alla seduta uno dei partecipanti di solitamente secondo le regole da seguire e dovrebbe essere il leader il leader fa le domande allo spirito che comunicheranno con le persone che stanno facendo la seduta spostando l'indicatore mobile su tutte le lettere formando poi delle parole o delle frasi quindi e stefania insieme a sua sorella marianella e ad altre sue compagne sta facendo proprio questo e lo fa senza un motivo preciso lo fa per curiosità perché sinceramente ripeto io sono sempre stata curiosa rispetto a queste cose e quando si è piccoli secondo me non si ha neanche molto il senso del pericolo poi uno magari ci crede non ci crede curioso di vedere se succede qualcosa quindi non trovo strano che e stefania e le sue compagne abbiano voluto provare marianella la sorella di stefania stava controllando che non entrasse nessuno dalla porta che non le vedesse nessuno quindi faceva diciamo da palo e non ha partecipato alla seduta attivamente ma proprio nel mezzo di questa seduta una delle suore si accorge di che cosa stavano facendo le ragazze e nonostante ci fosse marianella a controllare la porta questa suora entra all'improvviso dentro la stanza prende la tavola ouija e decide di spezzarla in due nel bel mezzo del rituale che è la cosa peggiore che uno possa fare perché ci sono delle regole ben precise per fare questo tipo di seduta per usare la tavola ouija e una delle regole la base proprio è che non bisogna mai interrompere una seduta così senza chiuderla prima di interrompere una seduta bisogna sempre sempre dire addio goodbye allo spirito c'è proprio la parola scritta sulla tavola bisogna sempre salutare prima di interrompere la seduta perché sennò possono succedere delle cose come quella che poi succederà nella nostra storia quindi in questo caso addirittura non solo non hanno terminato nel modo corretto la seduta addirittura la tavola è stata spezzata in due e in quel momento l'indicatore che stavano usando che era fatto di vetro quindi magari stavano usando proprio un bicchiere non è chiaro cade per terra e si spacca e spaccandosi sprigiona questo fumo bianco che viene inalato inavvertitamente da estefania le persone vicine a estefania dicono che i cambiamenti in lei sono stati subito visibili la prima cosa essere stata intaccata è stato il suo sonno non riusciva più a dormire la notte nonostante non avesse mai avuto problemi di insonnia e le poche volte che riusciva a prendere sonno faceva degli incubi spaventosi sognava continuamente di creature nere che la circondavano o che la chiamavano urlavano il suo nome e poco dopo queste figure nere e stefania inizia a vederle anche nella vita vera non solo quando sta dormendo la sua famiglia infatti racconta che stefania diceva di vedere queste figure nere che giravano per casa che la seguivano ovunque e che la fissavano dagli angoli della sua casa o dal fondo del suo corridoio e chiamavano il suo nome le dicevano di andare da loro e stefania inizia anche a cadere in degli stati di trans che duravano circa 15 20 minuti ogni volta in cui lei semplicemente stava ferma a fissare il vuoto e sembrava non essere cosciente però era insomma aveva gli occhi aperti ed era magari anche seduta e quando si riprendeva da questi stati di trans non si ricordava assolutamente niente ma era convinta di trovarsi in un corridoio pieno di nebbia e racconta che queste voci riusciva a sentirle anche durante questi stati di trans la famiglia di stefania racconta che inizia anche a parlare delle lingue a lei sconosciute non sono riuscita a trovare quali lingue l'abbiamo già visto in altri video queste persone possedute iniziano a parlare lingue come il latino e tante di voi mi hanno scritto nei commenti non capisco perché queste persone parlino proprio il latino in realtà è una bella domanda non ne ho la più pallida idea in questo caso invece non è specificato comunque io non sono riuscita a trovarlo suo padre racconta appunto di questi suoi stati di trans in cui rimaneva immobile per appunto anche mezz'ora e fissava l'uoto e iniziava solo a parlare queste lingue sconosciute e racconta anche di averla vista levitare a volte e che spesso rideva iniziava a ridere in modo isterico senza nessun motivo cosa che trovo incredibilmente da brividi e oltretutto i suoi genitori descrivono questa sua risata come una risata molto strana non era la risata di stefania era una risata diversa con una voce diversa i genitori decidono chiaramente di portarla da un dottore e lo fanno diverse volte ma nonostante stefania sia stata visitata da innumerevoli dottori e specialisti e sia stata portata in diverse cliniche diverse volte nessun dottore mai riuscito a capire che cosa potesse avere non trovavano niente nonostante le abbiano fatto veramente qualsiasi tipo di esame e forse questa storia fa un po più paura e un po più inquietante perché non siamo nel 1800 come magari in altre storie che ho trattato qua siamo nel 1990 che per carità da lì la medicina e la scienza ha fatto dei passi da gigante ma comunque 1990 non è il 1800 ecco quindi forse il fatto che nel 90 non riuscissero a trovare una spiegazione a questi atteggiamenti fa un po più impressione o perlomeno a me fa un po più impressione comunque col tempo questi fenomeni iniziano a diffondersi anche al resto della casa non sono più fenomeni che succedono a stefania ma succedono anche intorno a lei la famiglia racconta che iniziano a sentire delle voci provenire da altre stanze della casa stanze in cui non c'era nessuno oppure delle urla nel mezzo della notte immaginate che state dormendo e c'è completo silenzio e all'improvviso sentite un urlo fortissimo non lo so dal soggiorno stanza in cui sicuramente non c'è nessuno non voglio neanche pensarci marianela la sorella di stefania racconta che una notte stava dormendo in camera sua e in piena notte si sveglia non riusciva più a riprendere sonno e quando apre gli occhi vede chiaramente un'ombra entrare dalla porta della stanza e iniziare a strisciare per terra verso di lei quindi qualsiasi cosa qualsiasi presenza ci fosse non era interessata solo ad stefania era interessata anche a marianela e forse anche a tutta la famiglia iniziano a succedere cose come oggetti in casa che si muovono porte che sbattono di continuo da sole elettrodomestici che si accendono e si spengono le porte oltre a sbattere si chiudevano a chiave da sole spesso chiudevano proprio in quella stanza le persone non lasciandole più uscire soprattutto il bagno a quanto pare il bagno sembrava essere un po il fulcro di tutte queste cose quindi è capitato più volte che mentre una persona era in bagno la porta si chiudeva e si chiudeva chiave rimaneva chiusa per ore queste entità queste forze invisibili chiaramente stavano diventando sempre più forti questo perché probabilmente più questi fenomeni inspiegabili si intensificavano più i membri della famiglia erano spaventati si spaventavano erano terrorizzati e più la paura cresceva più queste forze del male se ne nutrivano probabilmente quindi più se ne nutrivano più diventavano forti e più riuscivano a spostare cose a interagire queste presenze erano diventate talmente forti da riuscire ad aggredire fisicamente i membri della famiglia che si sono svegliati di notte più volte sentendosi prendere dai polsi e sbattere contro il muro ripetutamente marianella dice di essersi svegliata più volte la notte di aver visto sua sorella stefania levitare sopra il suo letto e anche il cane di famiglia raccontano che una volta all'improvviso è stato lanciato da una parte all'altra della stanza da questa forza invisibile a parentesi stava bene poi dopo sono andata proprio a leggere per assicurarmi che il cane poi dopo stesse bene non so se siete come me che non so anche quando guardo i film succede di tutto alle persone io sono lì che mangio i miei popcorn però poi succede qualcosa un cane io sono lì no non posso guardare quindi vabbè per sicurezza ve l'ho detto al cane non è successo niente chiusa parentesi dopo un po' e stefania stessa inizia ad aggredire la sua famiglia diventa sempre più aggressiva e rabbiosa iraconda e faceva dei versi inumani abbaiava ringhiava contro le sue sorelle i suoi fratelli e spesso aveva proprio la schiuma alla bocca come se fosse un animale rabbioso la famiglia aveva appunto capito come vi ho già detto che il bagno era un po' l'epicentro di tutto e in questo bagno loro tenevano anche cose come il ferro da stiro l'asse da stiro e raccontano di un episodio in cui e stefania era andata in bagno e all'improvviso la porta si è chiusa a chiave da sola e il ferro da stiro si è acceso da solo attaccandola e stefania aveva iniziato a urlare e quando la madre era corsa lì a vedere cosa stava succedendo la porta appunto era chiusa a chiave il padre era dovuto intervenire e non appena aveva iniziato a provare a buttare giù la porta all'improvviso la porta si era aperta tranquillamente ma la ciliegina sulla torta di questa situazione già terribile è stata quando e stefania inizia a soffrire di crisi epilettiche che dal momento in cui sono cominciate sono andate poi solo peggiorando e ricordiamoci che durante tutto questo periodo di tempo la famiglia ha portato e stefania dal dottore a farla visitare diverse volte quindi ovviamente anche quando ha iniziato ad avere queste crisi epilettiche l'hanno portata nuovamente dal dottore che comunque continuava a non trovare niente niente che non andasse e per questo motivo la famiglia è rimasta ancora più sconvolta e devastata quando una notte improvvisamente e stefania muore in quelle ultime notti le sue crisi epilettiche erano peggiorate ancora di più e l'ultima crisi era stata talmente violenta da indurla in uno stato di coma da cui purtroppo non si era più svegliata ed era morta poco tempo dopo e i dottori non hanno mai trovato una spiegazione logica a questa morte neanche dall'autopsia era venuto fuori niente infatti come motivo del decesso hanno messo morte improvvisa e sospetta ora morte improvvisa e sospetta di una ragazzina di 16 anni completamente in salute cioè questa cosa non è normale una ragazzina di 16 anni in salute non muore improvvisamente senza un motivo quindi adesso la famiglia di stefania era ancora più a terra dopo la sua morte e di conseguenza anche molto più vulnerabili infatti i fenomeni nella loro casa dopo la morte di stefania non solo non si fermano ma vanno ancora più peggiorando si erano aggiunti un po di fenomeni nuovi tra cui la voce di stefania la madre sentiva continuamente la voce di stefania che urlava da appunto sempre stanze in cui non c'era nessuno sentivano anche la voce di un uomo anziano e le porte continuavano ad aprirsi e chiudersi sbattendo da sole i vetri si rompevano senza che nessuno li toccasse e sentivano continuamente dei colpi alle pareti anche i bambini i fratelli e le sorelle di stefania continuavano a svegliarsi di notte raccontando di sentirsi aggredire da una forza invisibile e un giorno succede una cosa davvero inquietante e inspiegabile succede che a un anno dalla morte di stefania improvvisamente una sua foto che era appesa al muro cade per terra e prende fuoco ma la cosa curiosa di questo fenomeno è che a prendere fuoco è soltanto la foto la cornice intorno non ha riportato nessun danno la sorella di stefania marianela una notte si sveglia sentendosi prendere e tirare per i capelli e viene svegliata così e quando apre gli occhi vede una bambina vede una bambina che va verso il famoso bagno e marianela racconta che questa bambina a parte che l'aveva terrorizzata a morte però questa bambina non c'entrava nulla con stefania non aveva nessun collegamento era anche uno spirito nuovo che non aveva mai visto e quindi iniziano a pensare che quella seduta quella tavola ouija aveva proprio aperto un portale probabilmente nel loro bagno che faceva entrare e venire tutti gli spiriti era proprio forse un portale con il mondo dei morti la famiglia come potete immaginare a questo punto era completamente terrorizzata e so che state pensando ma perché cavolo non si sono trasferiti non se ne sono andati via da quella casa sono passati anni succedono cose assurde tutti i giorni addirittura stefania una figlia gli è morta io lo so la penso come voi però bisogna pensare che non per tutti è facile lasciare una casa e trasferirsi in un'altra perché magari non si hanno i soldi non si hanno le possibilità penso che se sono rimasti in questa casa per anni un motivo c'era poi non lo so non ho trovato informazioni su questo e voi direte vabbè ma io andrei a vivere anche sotto un ponte piuttosto che stare in una casa in cui vengo tirata dai capelli di notte da una bambina spirito e io sono d'accordo con voi posso dire niente comunque a questo punto la famiglia è completamente disperata anche perché si erano rivolti a diversi medium esperti del paranormale che li aiutassero ma queste persone non erano mai riusciti ad aiutarli anzi in alcune occasioni sembrava che la presenza di queste persone avesse solo peggiorato le cose e la famiglia arriva ad un certo punto in cui non sa più a chi rivolgersi tanto che la notte del 19 novembre del 1992 decide di rivolgersi alla polizia la polizia riceve una chiamata una telefonata alle due del mattino da parte della mamma di stefania che urlava al telefono all'operatore venite qui venite subito è in casa è qui dentro ora non si capisce di chi parlasse ma la polizia descrive la madre di stefania come completamente terrorizzata l'operatore che ha risposto al telefono prova a farla calmare per capire che cosa stesse succedendo e quando la madre di stefania racconta effettivamente che cosa stesse succedendo l'operatore ovviamente non le ha creduto e ha voluto anche parlare con il marito per avere conferma che questa donna non fosse ubriaca o non stesse mentendo ma quando anche il marito ha raccontato la stessa identica storia con lo stesso tono terrorizzato decidono allora di mandare degli agenti di polizia in questa casa e alla casa vanno cinque agenti di polizia più un detective di nome jose pedro negri e dicono che quando arrivano lì trovano l'intera famiglia ad aspettarli fuori casa ma quella era una notte di novembre oltretutto stava diluviando e faceva freddo quindi gli agenti sono rimasti colpiti dal fatto che questa famiglia aveva preferito aspettarli fuori casa al freddo e sotto la pioggia piuttosto che in casa loro quindi gli agenti e il detective negri riaccompagnano la famiglia dentro casa che gli racconta tutta la storia tutte le cose che stavano succedendo in quella casa compresi anche dei nuovi eventi che si stavano verificando negli ultimi tempi come per esempio il fatto che i crocifissi nonostante fossero inchiodati al muro si staccassero e si capovolgessero da soli oppure di come fossero apparsi su alcuni muri dei graffi come se un animale con degli artigli l'avesse avesse graffiato ovviamente le autorità sono assolutamente scettiche non credono ad una sola parola di quello che la famiglia sta raccontando ma decidono comunque di dare un'occhiata alla casa di ispezionare la casa in ogni angolo e a quel erano le tre di notte e ad un certo punto la polizia sente un rumore un rumore fortissimo provenire dalla terrazza della casa e il detective negri descrive questo rumore come se mobile molto pesante come se un armadio fosse caduto a terra e quando sono andati a controllare invece non c'era niente e lui insiste che un rumore così forte doveva per forza essere qualcosa non poteva aver sentito male era proprio il rumore di una cosa estremamente pesante che cadeva per terra che si sfasciava sentono anche delle grida provenire da altre stanze nonostante tutta la famiglia fosse riunita lì con la polizia e ad un certo punto uno sportello di un mobile si è aperto con così tanta violenza che ha quasi colpito in faccia un agente gli ha proprio sfiorato la faccia e a questo punto infatti due dei cinque agenti hanno detto no questo è un po troppo per me ciao ne vi aspetto fuori e hanno deciso di aspettare fuori casa mentre invece i rimanenti agenti e il detective negri rimangono e continuano l'ispezione sentono dei rumori provenire dalla camera che una volta era di stefania e quando vanno trovano un crocifisso che si era capovolto staccandosi dal suo chiodo sul muro e c'era anche un piccolo poster sotto questo crocifisso con l'immagine di gesù e su questo poster c'erano appunto questi questi segni di questi tre artigli e improvvisamente negri e questi altri agenti si sentono circondati da dei colpi alle pareti come se ci fossero un sacco di persone intorno a loro che bussavano alle pareti e queste cose non avevano nessuna spiegazione tra l'altro è possibile che sentiate anche voi bussare intorno a me ma non sono i fantasmi ve lo giuro sono i lavori in corso che stanno facendo almeno questo è quello che io credo quello di cui mi sto convincendo notano ad un certo punto che su un mobile in questa stanza un mobile su cui era posizionato il telefono c'era una sostanza gelatinosa che il detective negri descrive come quello che sembrava della bava o del muco nero venire fuori da non si capisce bene dove a quel punto la madre di stefania gli racconta del bagno gli dice che pensava che il bagno fosse il fulcro di tutto quindi gli agenti si spostano in questo bagno e quando ci entrano sentono che improvvisamente la temperatura scende drasticamente c'era una differenza di temperatura incredibile dentro quel bagno si congelava nonostante tutte le finestre fossero chiuse gli agenti raccontano che si sentivano voci provenire dai muri urla e a quel punto anche questi agenti e il detective negri pensano di aver visto abbastanza e decidono di andarsene dicendo alla famiglia che in realtà non c'è nulla che possano fare per aiutarli ma quella notte tutti gli agenti che erano stati testimoni di quei fenomeni hanno compilato un rapporto ufficiale in cui hanno descritto tutte le cose a cui hanno assistito e quello era un documento ufficiale e anche qua l'abbiamo visto nel caso di Enfield in cui la polizia ha fatto rapporto e non è una cosa in cui puoi mentire perlomeno si puoi ma perché la polizia dovrebbe mentire compilare un rapporto falso la famiglia ha continuato a vivere in quella casa ancora per un po' finché non si sono finalmente trasferiti da un'altra parte ma la famiglia racconta che qualsiasi cosa ci fosse in quella casa non li ha seguiti quindi finalmente da quando si sono trasferiti hanno potuto vivere una vita normale la cosa strana è che a quanto pare dal momento in cui la famiglia ha lasciato quella casa i fenomeni sono si sono fermati perché qualche tempo dopo un'altra famiglia decide di trasferirsi in quella casa e questa famiglia racconta che non hanno mai sentito niente di strano né visto niente di strano ora successivamente a tutte queste cose la madre di Estefania viene dichiarata da alcuni dottori come mentalmente instabile che non mi è chiaro che cosa significhi non ci sono più informazioni su questo non è chiaro quale disturbo avesse ma la cosa ha ovviamente fatto pensare tutti che si fosse inventata tutto che forse era mentalmente instabile anche prima e che si fosse inventata tutte queste cose o che fosse comunque frutto della sua immaginazione anche se questo non spiega di come gli altri membri della famiglia facessero a vedere le stesse cose di come la polizia è stata testimone di quegli eventi dopo un po di tempo i due fratelli di Estefania hanno rilasciato un'intervista dichiarando che in realtà Estefania e anche sua madre la loro madre avevano tutte e due sempre sofferto di epilessia anche se in realtà dagli studi fatti sull'autopsia di Estefania non è venuto fuori nulla di tutto ciò e anche da tutti gli esami che le avevano fatto precedentemente non era venuto fuori che soffrisse di epilessia questo è quello che io ho trovato poi non so se ci sono delle cose che hanno deciso di non rendere pubbliche o meno i due fratelli quindi da quello che ho capito erano scettici e non credevano che fosse mai successo niente quindi era come se si fossero un po rimangiati quello che avevano detto in precedenza però dicono che una cosa strana era successa era successa che sulla tomba di Estefania avevano trovato una sua foto bruciata però questo potrebbe anche essere spiegato nel fatto che magari dei vandali o della gente senza cervello aveva vandalizzato la tomba di Estefania e voi amici che cosa pensate di questo caso pensate sia tutto vero oppure pensate che sia tutto frutto di suggestione o dell'immaginazione dei membri di questa famiglia e magari che questo abbia suggestionato anche gli agenti di polizia io mi sento che la polizia sia difficile da suggestionare soprattutto quando si tratta di cinque agenti più un detective quindi non è una persona sola che magari si spaventa o non lo so sono sei persone da convincere persone che hanno visto anche cose terribili nella loro vita immagino quindi quella parte un po mi fa pensare che magari in quella casa ci fosse davvero qualcosa dall'altro lato una cosa che non mi è chiara è perché di questi casi così eclatanti non ci sia mai una foto decente perché perché non c'è mai una foto decente voglio dire se ti succede una cosa o due posso capire magari sei così spaventato che quell'unica volta che succede questa cosa eclatante che ti vola davanti la faccia qualcosa di sicuro non pensi a prendere non so la macchina fotografica e fare una foto lo capisco perché io stesso ho avuto qualche piccola esperienza paranormale e so che molti di voi hanno visto il video che avevo fatto sul mio secondo canale ed è tutto vero non mi sono inventata niente e non era niente di così eclatante però comunque mi si accendeva al computer di notte partivano i video su youtube nonostante il mio portatile fosse chiuso o si accendevano sveglie di notte e io ero talmente spaventata che non mi sarebbe mai venuto in mente di prendere il telefono e fare un video l'ultima cosa qui ho pensato sinceramente ma se queste cose ti succedono tutti i giorni per anni cioè secondo me a un certo punto ti fai coraggio e una foto la fai no non lo so questa è solo una mia opinione ma con questo non voglio dire che non ci credo perché io credo assolutamente al paranormale credo che queste cose possano succedere ci credo perché sono successe anche a me e non me lo sono inventato ma in questo caso ditemi voi ditemi voi quello che pensate lasciatemi un commento come al solito questi amici miei sono tutte le informazioni che ho su questo caso volevo aggiungere anche che esiste il film tratto da questa storia ed è proprio tratto nel senso che è molto diverso dalla storia reale però se non sbaglio è su netflix e si chiama veronica io l'ho guardato l'altro giorno quando ho preparato questo video ed è effettivamente molto diverso ed è dallo stesso regista che ha fatto rec se non sbaglio per questo video è tutto grazie mille di aver passato il vostro tempo con me anche oggi non dimenticate di lasciarmi un like se questo video vi è piaciuto di lasciarmi un dislike se questo video non vi è piaciuto va bene lo stesso mi aiutate lo stesso non so se lo sapete ma sia che mi lasciate un like sia che mi lasciate un dislike aiutate il canale quindi grazie in entrambi i casi e ci vediamo lunedì con un nuovo video ciao